con il titolo il cammino di un popolo è uscito l'ottavo volume dell'opera omnia del cardinale martini come strutturato il saggio come emerge dal titolo che utilizza una parola tipicamente sinodale il cammino questo volume ha parecchi riferimenti al cammino sinodale anche se raccoglie realtà tutte le lettere pastorali che il cardinale martini ha rivolto alla diocesi nei suoi 22 anni di episcopato e ci sono anche alcune altre lettere rivolte alla diocesi di milano possiamo sono lettere che sono state più volte pubblicate e tuttavia non sono mai state raccolte in un unico volume e questo ha un suo interesse perché come lo stesso cardinale martini ha detto alla fine del suo mandato episcopale nel 2002 guardandole tutte insieme si ha l'impressione di una grande cattedrale ci sono quindi i pilastri che sostengono tutto il suo servizio episcopale di cui i primi due sono i più noti la contemplazione la vita contemplativa che riguardano la vita dimensione contemplativa della vita e il principio alla parola e poi i vari parti della costruzione di una cattedrale le pareti le guglie e l'abside l'altare che è l'immagine che anche monsignor brambilla che ha scritto la prefazione ha utilizzato ovviamente nel libro si fa riferimento al sinodo quarantasettesimo dell'arcidiocesi di milano voluto dal cardinale martini nel 1995 la parte centrale alcuni elementi lettere centrali del volume riguardano il quarantasettesimo sinodo della diocesi di milano e quindi martini ha occasione di riflettere su cosa significhi un sinodo in particolare descrive l'atteggiamento che lui ha utilizzato per vivere attraversare questa esperienza sottolineando molto l'aspetto dell'ascolto si è messo in un atteggiamento di ascolto profondo usa la parola lasciarsi macerare dall'ascolto che tra l'altro è una parola che ha usato anche madre angelini nella meditazione di ieri a proposito del seme e distingue martini stesso tra i momenti del sinodo il sinodo come evento sinodo come processo e il sinodo come documenti e dice anche alcune cose su cosa ci si può aspettare dai documenti di un sinodo sapendo che tuttavia quello che stiamo vivendo adesso a livello di chiesa universale è solo un passo di un'assemblea sinodale che si svolge su due anni e che comunque include un processo di parecchio tempo parecchi anni che papa francesco ha voluto più lungo quindi da una chiave di lettura dei documenti del sinodo e poi interpreta anche alcuni momenti di fatica di disagio che questo percorso condiviso può portare in particolare riferendosi alla contemplazione del volto di cristo e dice veramente è un processo di conversione ecclesiale che va fatto tenendo presente continuamente davanti a sé il volto di cristo e dice quale volto il volto del servo sofferente il quale quindi porta con sé un'immagine di chiesa che non è una chiesa alla conquista del mondo ma è una chiesa che si mette al servizio del mondo e che assume quegli elementi fondamentali delle beatitudini che sono la debolezza la umiltà e uno spirito di servizio riguardo all'intera famiglia umana che la chiesa è chiamata a incontrare nella propria missione lei è padre sinodale questo ponderoso saggio con tante riflessioni del cardinale martini può parlare anche ai lavori di oggi all'assemblea in corso e a quella dell'anno venturo sì perché martini è molto attento a mettere a fuoco quali possono essere i frutti del sinodo come ulteriore cammino di trasmissione dell'esperienza di chi è stato al sinodo a tutta la comunità a tutta la comunità ecclesiale e quindi a proseguire approfondire e articolare ulteriormente quelle domande che rimangono aperte nella consapevolezza che non si arriva a un punto conclusivo ma si tratta sempre come chiesa di rendere nuovamente presente il volto del signore nella storia che abitiamo grazie a tutti